La Dolce Amaro non andrà via dal Molise. L'apertura di un nuovo stabilimento a Presenzano fa parte di un progetto di ampliamento, ma il cuore dell'azienda resta a Monteroduni e restano al loro posto anche circa 40 dipendenti. Lo ha detto uno dei titolari, Claudio Papa, dopo le voci sul trasferimento dello stabilimento nella vicina provincia di Caserta. L'azienda Dolce Amaro, che è nel Molise e sta qui a Monteroduni, continuerà ad operare in Molise, solo che gli ampliamenti dovuti anche alle richieste di mercato, che siano nazionali o che siano internazionali, perché l'azienda è molto aperta ai mercati internazionali, esporta già in 20 paesi del mondo, la sua quota di esportazione è superiore al 50%, però ha anche quote nazionali ancora da conquistare, farà ampliamenti dello stabilimento sia verso la Campania, quindi a Presenzano dove abbiamo individuato una location idonea all'ampliamento di questa azienda, sia in Romania o in Repubblica cieca, stiamo giusto decidendo su questi due tavoli qual è la migliore opzione. Il quartier generale dell'azienda produttrice di cioccolato e confetti resterà dunque in Molise. Qui non abbiamo mai avuto problemi e dall'istituzione abbiamo sempre avuto risposte, ha detto ancora Papa. L'azienda ha sempre avuto risposte, a qualsiasi livello, perché l'azienda è gestita in un modo che può permettersi di avere risposte perché si propone in maniera positiva. I tavoli a cui siamo stati invitati e a cui noi siamo andati sono tavoli per l'accrescimento come una qualsiasi azienda che cresce e tenta di avvicinarsi il più possibile ai mercati di sbocco. Ma i lavoratori molisani possono stare tranquilli? Assolutamente sì, lo sono sempre stati e continueranno a essere tranquilli a lavorare e condividere con noi questa nuova esperienza di sviluppo dell'azienda.